Nella foresta ci sono tanti guerrieri, sono tutti molto brutti, di un tipo di neri, e ce n'è uno che ha una mossa segreta, che se ti prende ti accetta, ti sembra una cometa. Ma Luque, è mossa speciale, ma Luque, se ti prende ti fa male, ma non può battere il mostro finale, ma non può battere il mostro finale. La principessa è stata la vita, oh ieri, da un mago cattivo di lei, la ripuoi con sé, e allora i guerrieri corrono a salvarla, ammazzano i cattivi e poi riescono a liberarla. Ma Luque, è il corpo speciale, ma Luque, è il bene il mio padre. Lo so, questa storia fa un po' cagare, lo so, questa canzone fa un po' cagare. Grazie a tutti.